Per Renzi Quindi quattro opposizioni Se fossi in letta chi temeresti di più di questi quattro oppositori? Renzi Non c'è dubbio Perché Renzi vuole diventare segretario del Partito Democratico Ma non vuole fare il segretario del Partito Democratico Perché è costretto ad uscire dal bar sport E a misurarsi con i problemi concreti Perché un segretario di partito deve prendere posizione Ogni giorno deve prendere posizione Deve scegliere di qui o di lì E non può essere con la Roma e con la Lazio Come molto spesso accade ai rinnovatori della sinistra Che per un breve tratto di strada Fanno appunto il manche Stanno con la Roma ma anche con la Lazio Con l'Inter ma anche con il Milan E poi quando arriva il momento delle scelte Ma Renzi è solo una costruzione mediatica secondo te? Beh diciamo che per adesso è un avatar secondo me E mi auguro invece di vederlo segretario del Partito Democratico Così in carne ed ossa Lo dici sarcasticamente Ma adesso ti voglio vedere Ma adesso ti voglio vedere Come dire Ma te riconosco Probabilmente si potrà dire dopo Ma l'Italia ha bisogno di leadership Che prendano posizioni Posizioni chiare Inequivoche Di questo io credo abbiamo bisogno Che prendano posizioni